Allora io adesso mi sono stufato ok io non posso andare avanti così Vi ho promesso una vittoria e la vittoria sarà ciò che otterremo Basta No non ci posso credere Non ci posso credere mi ci sono schiantato contro No no Stagli sopra Stagli sopra Stagli sopra Stagli sopra Stagli sopra Bastardi andate a morire tutti quanti Cosa 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 No 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 Piano 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 morta 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 Cos'è? Cos'è sto schifo? Cos'è sto pioggia di schifezze oh? Raga ma muoiono da soli cos'è? Guardali 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 I lancianti mi esplodono Stiamo andando avanti Stiamo andando avanti piano Piano perché porca di quella vacca mi arrabbio adesso eh Se perdo Dai vai via te che sei scarso come non so cosa Via anche te venipede Dai non ci voglio eh L'importante è far rimanere questo qua Perché così possiamo recuperare Tanto questo poveraccio non ce la fa È lento con me non so cosa ad arrivare Non fargli attacchi in aria Va benissimo Dai forza Forza Che arriva? Arriva qualcuno No ancora Questa non l'avevano già battuto? Domatrici di dei Ma vai via vai No 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 Piano 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 che ci muoio Piano che ci muoio Non voglio morire È morta È morta È morta lei È morta lei Manca la bestia Raga Piano Piano Sì Dimmi che ho vinto Dimmi che ho vinto Ti prego dimmi che ho vinto Ti prego dimmi che ho vinto Ti prego Per favore dimmi che era il boss finale Ti prego ti prego ti prego Sì Achievement bloccato folle Mi ha dato dei soldi Eh Raga mi ha dato credo 3000 geo Non lo so Cos'altro mi dà? Un vero fallo a condire a combattere Anche quando non c'è più gloria Da conquistare vicino a te la bacheca Oppure nel tuo marchio Cosa? Raga non mi ha dato niente Non mi ha dato niente? Oh mio dio Tutto questo per la gloria praticamente Dovevo davvero dimostrare che ero un folle? Mi serviva tutto ciò? E anche un frammento di niente per dire la maschera Niente Oddio Sono tre parti che cerco di fare sto robo Guarda che non è difficile alla fine Basta che mi diciate Guarda Te odiamo Allora ragazzi Dato il gioco che teoricamente dovrebbe essere finito Non lo so poi se mi manca qualcosa Mi manca sicuramente qualcosa Però mi avete detto che ci sono i DLC da fare Quindi io direi di iniziare Stavo guardando adesso e mi interesserebbe andare al The Hive Allora stando a quanto dici devo andare qua ai terreni del palazzo Perché teoricamente io devo prendere il treno Allora fammi vedere Ecco teoricamente io adesso dovrei prendere il treno per andare a Kingdom Hedge Andando verso est dovrei trovare un muro protetto da Hivelings Ah questi Ah infatti guarda lì che c'è il muro da spaccare Ah Ok Ci siamo Teoricamente questo ragazzi dovrebbe essere l'alveare Infatti The Hive alveare non mi ricordavo Mi confermate che è un DLC questo perché non ne ho idea Cos'è sto schifo? Chiedo perché appunto non vorrei Cioè in realtà io stavo pensando anche un'altra cosa Mi mancano delle maschere Cioè mi mancano due frammenti di maschere credo E due pezzi di ricettacolo Per teoricamente maxare tutto Io non so se viene contato nel gioco Perché appunto avendo scaricato la versione del gioco con il DLC incluso Io non ho acquistato nient'altro Però è bello come posto Cacchio se mi piace La musica è particolarissima Oh vieni piccolo Fuck yes Con calma perché dobbiamo arrivare ancora a 2400 2400 mi pare Senza quella roba lì Per cui a sto punto raga penso davvero che Madonna Cos'è? La pemaya si è dopata un po' troppo mi sa eh Che cacchio le bianze Oh Raga Ma che cacchio è? Mi hanno steroidato la pemaya Ok guarda lì dove ero È un giro un po' strano però va bene Forca vacca C'è la pemaya obesa anche adesso Allora Prima di andare a recuperare le mie cose Voglio vedere se qua a sinistra c'è Almeno mi serve una cosa per sedermi raga È possibile trovare una panchina Sì ok me l'ha messa qua sopra Grazie mille gentilissimi Questa zona è molto pericolosa Le api resistono un sacco a quanto pare Perché io per ucciderne una Devo darle almeno 4 colpi a quelle normali Poi vabbè c'è la pemaya obesa Che non si capisce quando muoie Frontiere del reame Qua cos'è? Sento qualcuno Ah il fungo Quindi in sostanza aspetta Siamo tornati Orca miseria Guarda Cioè fa due danni poi questo E il bello è quello Occhio che arriva Madonna anche queste qua Con il trivellone Quanti soldi mi danno qua dentro raga? Cioè nel senso sto trovando di tutto Più che altro non so neanche più Come utilizzarli i soldi Nel senso che Adesso mi servirebbe un minerale terreo Magari Così posso andare a potenziare Teoricamente spero L'ultimo potenziamento per Per l'arma Oh là sopra io potrei andare Aspetta un attimo Posso provare a scalare i bambini Se è possibile Vabbè Non ci si può arrivare Niente Non ci arrivo io Non ci si può arrivare Quanti Aiuto Aiuto No No C'è un qualcosa Raga cos'è un frammento di maschera Quello Come ci arrivo Come ci arrivo Siamo calmi Non nascondiamo le robe Che ci arrivo Prima o poi Dov'è Oh Che è? Oh c'è un tizio là dietro Piano ragazzi Piano ragazzi Piano ragazzi Piano ragazzi Piano 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 Ciao Cavaliere dell'alveare Ciao Carino lui Senti là Senti là come si muore Bella la musica però Ci sta Aiuto Aiuto Ma mi manda i bambini anche Sì vabbè Ma mi manda i bambini Dai ma io non posso fare avanti e indietro ogni volta così Ma che palle Secondo le mie teorie Per arrivare a prendere quel pezzo di maschera che c'è là sotto Dobbiamo buttare giù quel muro Ma non sappiamo come buttarlo giù quel muro Come cacca si butta giù quel muro Porca di quella vacca Perché è lì sotto Il problema è che per arrivare lì bisogna andarci Praticamente dall'altra parte Sì vabbè ma c'è troppa gente Quando non è possibile andare avanti A meno che non provo a far schiantare Oddio Dimmi che si può fare No Bellissimo Bisognava far schiantare uno di stimoli contro Ah E non Non potevo proprio Immaginavo che ci fosse una specie di scorciatoia Non potevo proprio passare io di qua Peccato solo perché siamo a tre frammenti su Su quattro che mi servono Perché sennò Potevamo avere un pezzo di maschera in più che Male non fa Ho investito anche la mia anima Ok non pensavo che si potesse uccidere l'anima investendola Comunque non è forte alla fine in realtà Cioè io ci ho messo un sacco ma in realtà è una schifezza Oh 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 Cosa fa? Si è inginocchiato C'è quel robo là dietro che non mi convince per niente Comunque una volta che avete preso il Come che si chiama quello per il dash Questo qua dell'ombra Che in realtà adesso che ci penso non so se mi serve Il sangue dell'alveare ok Una volta preso questo Non Non è difficile Ciao Mio cavaliere finalmente sei libero Vespa regina dell'alveare Piccolo e sereno conosco quelli della tua specie Se vuoi far luce sul tuo passato Lora sappi che non sono io la regina che stai cercando Sono gli esseri pallidi responsabili della tua condizione Gli esseri pallidi cosa sarebbero? Tipo quelli come me? Anche se questo alveare esiste in seno a nido sacro Noi non prendiamo parte ai suoi tentativi di sopravvivere Posso provare L'ho liberata E si ho capito ma Cosa mi manca? Non penso sia finito qua no? Ah è vero che là sopra c'è quel pezzo Aspetta un attimo Lì Quello Io devo salire lì Allora Vediamo se riesce A far così Sembrava strano che fosse solo qua il pezzo Oh bambino Bambino No aspetta ma è chiuso Raga dove devo andare? C'è quell'entrata lì Che io non riesco a capire Come arrivarci Forse da sopra Perché vedi che È collegato Verso le frontiere Del reame Non capisco Ho trovato Trovato Raga tra l'altro stavo guardando Ma siamo ricchissimi Cioè 6.000 Tantissimo Ah Vedimo Vedimo che qualcosa c'è Anche se a guardare dalla mappa Non so dove potremmo andare Un bambino No dai era un'altra zona con un solo bambino Cioè per carità va bene vai a casa Piccolo perché poverino Si è perso qua giù Ma che cacchè Ma che cacchè Cioè Raga non ho più niente da fare io Cioè non Non riesco a capire dove devo andare Cioè è finito lì Sono un po' triste riguardo Ragazzi è finito lì così Perché Cioè non c'era neanche un boss Di qualcosa O almeno per carità Il boss c'era Era il Il cavaliere lì Poi è arrivata anche la regina E va bene ok Però Sarebbe La regina magari da battere Non lo so È un po' Un po' strano Questo pezzo c'era già Aspetta un attimo Quindi un altro Vuole unirsi al nostro gruppo No aspetta Allora questo qua Era quello che mi vendeva L'altra roba A pulveria Io non so dove son finito Qua sotto Un regalo per te a guerriere Come mercante Trovo molto difficile Separarmene senza ricevere nulla in cambio Come gran maestro da culo Devo riconoscere il tuo talento Hai padroneggiato le arti Dei miei ultimi allievi Quindi secondo la tradizione Devi Anche tu devi portare Il nostro simbolo Portalo con orgoglio Maestro da culo Sarai l'ultimo a riceverne uno No raga Sono finito qua sotto Completamente a caso Cioè lui aveva Quello spadone lì Fammi capire una cosa Ah tra l'altro Guarda qua il coso Fammi vedere che non l'ho visto Costa 4 Chi lo indossa verrà curato nel tempo E potrà rigenerare salute Senza concentrare le anime What? Aumenta la destrezza Nelle arti delle culo Permettere di concentrare il potere Ed eseguire le arti più rapidamente E costa uno Questo è buono Cos'è che abbiamo preso là Nell'alveare? Vedi che non c'è più il tizio Che venda Eh ok Vabbè Sparisce lì sotto Però ho capito che almeno Servono anche quelli Cioè praticamente anche i I DLC Vengono contati Già direttamente nel gioco Allora amico T'ho portato a casa altri bambini Hai visto? Quanti cacchi di bambini vuoi ancora Che non si capisce niente Qua in mezzo Oh Chiave dell'amore Cos'è sta roba? Qua raga non ci eravamo arrivati prima Ah un'altra chiave Ok Ricoperta da rimbottitura Recca un simbolo d'amore Sto girando un po' Infatti qua Non ci eravamo passati Perché probabilmente Non potevamo ancora Che c'era Il veleno e tutto Se trovo qualcosa Benvenga Ok Se no Vabbè fa lo stesso Andiamo al prossimo DLC Picaltro appunto Adesso che teoricamente Dovremmo avere Tutti i potenziamenti Faccio che vado a cercare Se c'è qualcosa di Importante Questo confine Trattiene gli esseri Cattrocinano e graffiano E se ne appace Posso fare qualcosa Con questo? No Vorrei provare un'ultima cosa Parlando con questo tizio Il tuo diario si sta riempiendo Ti rimangono solo poche bestie rare da cacciare Cerca la fine dei recessi più nascosti del reame Completa il diario Guadagnate la tua assodata ricompensa Lui mi dà qualcosa Il fatto è un altro Io il diario non so Come possiamo completarlo Nel senso Lui qua mi tiene conto anche dei Ah si Mi tiene conto anche dei Del tizio dell'alveare Che teoricamente è un DLC Però vedi che non mi dice Quali mi mancano Cioè non è che c'ho tipo Dei trattini che mi dicono Guarda che qua ti manca un nemico Quindi l'unica Praticamente Qua ci dobbiamo tornare Quando abbiamo finito anche il DLC Perché lui mi dà qualcosa Lui ha altre robe Oltretutto Stavo guardando anche Che praticamente Uccidendo Vedete un tot di nemici Ti dà altre indicazioni Tipo il muschioso Uccidendone ancora tre Decifri le notte del cacciatore Però non ti dice dove si trovano È un peccato Cioè dovrebbero darti Almeno degli indizi Per dire guarda che si trova Da queste parti Comunque io ragazzi Direi che per oggi Possa essere tutto La prossima volta Sicuramente Andiamo a fare un altro DLC Un altro Un altro qualcosa del DLC Perché comunque abbiamo visto che Quello è Alla fine Pensavo che fossero un po' più Grandini Un po' più lunghetti Come DLC Come aree Però anche vedendo che Si trova tutto Dentro la stessa zona di gioco Quindi non ti porta A nessuna parte Ci sta un sacco come cosa Però appunto Mi lascia un po' Eh Soprattutto questo qua Adesso Quello dell'alveare Poi magari I prossimi sono fighissimi Hanno un sacco di boss E nemici Però Non è che Anche secondo me Non è che avranno Un sacco di roba Perché Altrimenti ci Creavi un nuovo gioco Se mettevi Tot e nemici Va bene Comunque per il momento Per questo episodio è tutto Noi ci vediamo alla prossima parte Sempre su Hollow Knight Qui dall'Hannulf è tutto Ciao a tutti